Azzurro è come un certo pazzo, non è lungo per me, mi accorto di non avere più risorse senza vita. Ne accogliamo con un grande applauso gli amici della Deltan Junior Orchestra of the Best Art School Bedics di Smetana che rappresenta la Repubblica Ceca. Un grande applauso! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.